un focus ampio sulla produzione indipendente italiana un focus altrettanto importante sul post-cinema che è iniziato con Corbien e che continuerà con le proposte di Antonio Magalazzo che curerà una finestra su Zinzinski e su Salvo Buccia poi abbiamo due sonorizzazioni a cura dell'Università di Salerno e Teoteardo che presenterà un concerto molto importante che ritorna la regione, musica di Mattei una sonorizzazione live che farà su tre cortometraggi di Mattei questo concerto ci sarà al Teatro Carlo Gesualdo venerdì 18 vedrà la presenza anche di 40 italisti irpini che parteciperanno a questo concerto è una cosa scommessa che mi mette in piedi il Teatro qui?